Siamo sempre parlando di un aspetto molto importante, strutture RSA, strutture per anziani, dove vengono accolti necessariamente persone con dei bisogni delle emergenze di carattere sanitario. Però io stavo dicendo un po' fuori onda, ci sono anche alcuni di carattere sociale perché sono persone sole e sempre più ce ne saranno. Quindi allo stato attuale c'è un'unica impegnativa? Allora questa cosa noi l'abbiamo contestata, abbiamo fatto anche un volantino unitario che prossimamente distribuiremo anche nei mercati, davanti alle case di riposo, nei luoghi pubblici, perché noi pensiamo che questo contributo che deve dare la Regione dovrebbe essere differenziato a seconda della situazione sanitaria, sociosanitaria della persona. Nel senso che poi questi soldi non è che vanno materialmente all'anziano ospite della casa di riposo, va alla casa di riposo. È ovvio che se la casa di riposo deve rispondere a bisogni di tipo sanitario molto complessi, avrà bisogno di più infermieri, avrà bisogno di più ore da parte del medico di medicina generale e quindi una spesa per le case di riposo. Noi, la nostra proposta è quella di dire no a una unica impegnativa di residenzialità, ma come minimo a tre impegnative di residenzialità. Quindi aumentare rispetto a quelle che c'erano una volta, le due, arrivare a tre... C'è la slide che parla di cosa riteniamo necessario, aumentare il numero di impegnative, prevedere più impegnative. Vediamone insieme, prego, segretario. Ecco, quindi una delle proposte che noi facciamo è questa di rivedere questa decisione della Regione Veneto, di passare quindi a tre impegnative. La terza dovrebbe essere in particolare rivolta a chi ha più bisogni sanitari e quindi si parlava prima delle malattie di mentigene piuttosto che altre patologie, insomma, più gravi, malattie più gravi, per dare una risposta a questi bisogni sanitari che ci sono nella casa di riposo. Poi noi, nelle nostre proposte, allora la Regione ha aumentato fondamentalmente, come abbiamo detto, di 3.000 impegnative rispetto al passato. Noi, nella nostra proposta, quindi si arriva a 28.000 circa impegnative. Con queste 28.000 impegnative la stessa Regione dice che coprirà l'87% del bisogno. Il che vuol dire che 13% di persone che avrebbero diritto, mettiamola così, a questa impegnativa non possono averla perché c'è un tetto alle impegnative. Cioè uno potrà, anche se ha, come dire, lo stesso punteggio di gravità di uno che o addirittura... Si arriva prima, insomma. Ecco, o addirittura di più di chi è già in casa di riposo rischia che fintanto che uno non muore non percepirà questa impegnativa. Quindi un 13% di persone, anche con questo aumento di impegnative, non sarà coperto dall'impegnativa. Noi diciamo che bisogna arrivare almeno a 30.000 impegnative e che queste 30.000 impegnative vanno riviste ogni due anni a seconda del bisogno che emerge nella Regione. Perché poi, insomma, gli anziani aumentano, ecco. Infatti, leggiamo questo messaggio. Buongiorno a voi, le malattie neurodegenerative sono in aumento, è necessario assumere personale specializzato, da precisare che nei prossimi anni arriverà l'emergenza sociale legata a questo aumento con la malattia che uccide, ma l'indifferenza da parte delle persone. Maurizio D'Astra, Venezia. Sì, mi conferma un po' le cose che stavamo dicendo. Tocca un'altra questione, secondo me, importantissima. Il personale. Eh, infatti, dice, questo è un'altra cosa. Allora, le case di riposo si lamentano perché gli infermieri e gli operatori sociosanitari scappano dalle case di riposo per andare a lavorare nella sanità. Perché scappano dalle case di riposo? Perché ovviamente nella sanità prendono di più. Ora, se noi dovessimo parlare in termini di mercato, basta pagare di più le persone dentro le case di riposo e probabilmente nel caso di riposo non avresti questo problema di infermieri e di operatori sociosanitari che invece scappano. Quindi c'è un problema economico ma anche di qualità del lavoro. Tenete presente che fare l'operatore, quello che è a diretta, insomma, diretto contatto con l'ospite, insomma, è un lavoro molto, molto pesante. Fatto di turni, fatto anche, come dire, di problemi psicologici perché persone che operano nelle case di riposo diciamo che ogni giorno vivono con la morte degli ospiti, dalle persone che assistono. Quindi abbiamo una situazione che dovrebbe, come dire, far pensare tutti, dalle case di riposo alla regione e a tutti quelli che ne hanno la responsabilità in questo campo, di vedere come premiare queste persone. Lei ha detto una cosa molto interessante, infatti ci stavo pensando prima, leggo solo questo messaggio, l'Italia non è un paese per vecchi purtroppo, soprattutto se si è soli, senza figli, da quello che dicevamo tra l'altro prima, perché questa sarà la generazione che arriva. Io dico, ma se si strutturasse un sistema premiale di carattere fiscale, un po' come quelle aziende private, perché col pubblico è un po' diverso, però si possono inventare, dico, o stabilire normativamente, nel senso che chi lavora nelle strutture delle case di riposo ha dei benefit, che chi lavora nel pubblico non ha, gli si danno delle, non lo so, le schede benzina, il tessere benzina, anziché dei buoni pasto più importanti per fare la spesa, in modo che però non vadano a gravare economicamente nella struttura, perché sennò è il gatto che si muore della coda, perché non ci sono soldi da tirare fuori, ma che si possono in qualche modo scalare fiscalmente. In fin di conti, in questo periodo qua, lo Stato abbiamo visto, di soldi fiscalmente ne ha intascati, più aumentano i prezzi più ne intasca, perché tanto stiamo parlando di IVA, è tutto un giro di cassa interno, almeno che anche queste strutture si trovano alle scamottage di carattere fiscale, lo si stabilisce normativamente, non so se è possibile a carattere regionale o nazionale, in modo tale che queste persone abbiano una premialità, come dice lei, giustamente un riconoscimento, se non si può dargli un aumento di stipendio, o almeno spendo meno perché ho questi vantaggi, e lì uno riflette, vado lì, perdo questi vantaggi, sto qui, è un lavoro faticoso, ma sono tutelato maggiormente. Allora, diciamo che la nostra proposta per far fronte ai costi delle case di riposo è di un altro tipo, e anche rispetto ai costi del personale, a cui va data una risposta sia... Sì, allora noi, con quella delibera che dicevamo prima, un'altra cosa a cui non si mette mano, è fondamentalmente gli standard del personale. La Regione Veneto, ancora nel 2007, fece una delibera dove fissò degli standard del personale, cioè tot non autosufficienti, ci occorrono tot operatori sociosanitari, tot infermieri professionali e via dicendo. Ora, se è vero, come è vero, che è cambiata la tipologia degli ospiti, con questa delibera si dovevano anche modificare gli standard, cioè mettere più personale a disposizione. Certo, assolutamente sì. Cosa che però non è avvenuta. Per fare questo ci sono bisogno di risorse, risorse a livello nazionale, noi da anni diciamo legge per la nuova autosufficienza, ma anche aumentare i fondi per la nuova autosufficienza, perché il problema della nuova autosufficienza non può essere un problema dei lavoratori o delle famiglie, o degli ospiti, deve essere un problema di cui si fa carico lo Stato o di cui si fa carico la Regione. Quindi aumentare le risorse per la nuova autosufficienza sia a livello nazionale che a livello regionale. Con queste risorse dare una risposta sia in termini di aumento della quantità delle impegnative di residenzialità, quindi noi abbiamo detto 30 mila e non 28 mila, sia aumentando il valore delle impegnative, non all'impegnativa a 24 euro giornaliere, ma più impegnative a crescere a seconda dei problemi sanitari che ha l'ospite. E uno sguardo particolare per quanto riguarda il personale, perché se no, se non diamo una risposta sotto l'aspetto economico al personale, rischiamo che scappino e vadano tutti a lavorare nella sanità. Noi diciamo si applica il contratto della sanità anche nelle case di riposo, così non c'è il problema che uno scappa perché trova miglioramenti economici. Però a quel punto il costo maggiore chi lo sombarcherebbe? La Regione? La Regione e lo Stato devono trovare la soluzione sotto l'aspetto economico. Noi diciamo che questi costi vanno a carico della Fiscalità Generale. Chiaro. Allora, leggiamo il messaggio un attimo solo nella regia, se dopo andiamo in pubblicità, se mi metti in onda il messaggio che è arrivato poco fa. Ringrazio lo SPI che ci informa sempre sui nostri problemi, altrimenti saremo allo sbando. È pazzesco che nel 2022 abbiamo ancora bisogno di far capire il valore degli anziani. Stiamo andando avanti o indietro? Franco da Padova. Direi che siamo fermi, cioè qualche passo si sta facendo, ma non è ancora sufficiente. Anche perché quando tutto incomincia ad aggirare in un certo modo, arrivano delle mazzate di qua e di là. Esatto, brava. Di ogni tipo ci sembra quasi incredibile, cioè un complotto questo qua. Torniamo a parlare insieme, parliamo anche della manifestazione per la pace, subito dopo la pubblicità, poi magari la chiosa finale la faccio fare sempre a Gino Ferraresto. Pubblicità. Pubblicità. Grazie a tutti.